Amici dello sportello del cittadino, noi vi facciamo vedere le cose brutte di Taranto, ma anche quelle belle. Noi vogliamo promuovere il turismo, far crescere questa città e ci fa piacere quando vediamo qualche turista. Per questo ci battiamo, perché è il territorio migliori, per renderlo sempre più attrattivo e competitivo. Abbiamo incontrato qui, dinanzi al castello aragonese, alcuni turisti. Good morning, where do you come from? From Bulgaria. Ecco, abbiamo degli amici della Bulgaria. Why are you here? Do you like Italy? Do you like Taranto? Yes, we like Italy and Taranto. It's a very nice city. Dice, le piace Taranto, che è una bella città. And how many days are you here? Seven. Quindi sette giorni, più o meno una settimana, la signora trascorrerà una settimana qui a Taranto. Did you see many, many things of Taranto? Yes, we see the castle, the church, the museum, no. Dice, ha visto il castello o vedrà il museo, il museo appunto, il Duomo. Did you see other towns of Puglia? Yes. Which? We see Lecce, Bari, Otranto, Lippoli. E come dire? Matera. Matera. Matera, Alberobello. Alberobello. Insomma, c'è di più. Alberobello. Vedete, questo è uno spot promozionale per la nostra Puglia, per la nostra Taranto. Possiamo essere veramente la capitale d'Italia. Non dipende ora da noi, dipende da chi ci amministra. Viva la Puglia. E come dice il nostro canale, il nome del nostro canale, della nostra emittente, viva la Puglia Channel, canale 93 del Digitale Terrestre. Al prossimo episodio Grazie a tutti.